Il volume, corredato da un ricco apparato iconografico, indaga le strategie messe in atto nell'Unione Sovietica dai primi rivoluzionari bolshevichi e quindi via via negli anni successivi dal regime stalinista e post-stalinista fino al tracollo del sistema, per procacciarsi il consenso e gestire le emozioni delle masse popolari. A tal fine l'autore analizza capillarmente con acribia e competenza le iniziative culturali, propagandistiche e promozionali orchestrate con grande sfoggio di retorica e non senza contraddizioni da politici e intellettuali di varia estrazione sociale, prendendo in considerazione le riviste, la cartellonistica, il cinema, la radio, l'architettura e più in generale le arti di oltre 70 anni. Ne esce un grandioso affresco che ci dà modo di riflettere sulla storia, così da non ricadere negli inganni e negli errori del passato. Con Quando c'era l'URSS, 70 anni di storia culturale sovietica, vince la sezione divulgativa Gian Pietro Piretto. Ricordiamo l'editore Raffaello Cortina, piacere di averla qui, invito sul palco l'assessore, l'avvocato, l'assessore della cultura Alessandra Terzolo e poi facciamo entrare il premio che consiste tra l'altro in un assegno e alla mappa che abbiamo detto prima, la carta geografica dell'Italia, la prima carta geografica dell'Italia unita. Benissimo, grazie, grazie Assessore, ci accomodiamo. Allora, mi ho parlato dell'universo sovietico, oggi come viene percepito. Oggi quello che resta dell'universo sovietico è un ricordo lontano, sbiadito, nell'immaginario collettivo occidentale rimane forse soltanto traccia di momenti tragici, pesanti, del famigerato terrore staliniano, di momenti trionfali come la corsa, la conquista dello spazio, il primo volo di Gagarin, quindi si ricordano, si ricorda la guerra fredda, ben inteso, si ricordano i gulag, molto recentemente una risoluzione del Parlamento europeo ha riportato in auge la discussione, visto che il Parlamento europeo nella sua volontà di condannare i totalitarismi ha equiparato nazismo e stalinismo, se ne è parlato parecchio, se ne continua a parlare in questi giorni. Quindi l'Unione Sovietica è tornata ad esistere seppure vista ancora da lontano. All'interno del paese, all'interno della Russia, da alcuni decenni, quindi dalla fine degli anni 90, è partito un fenomeno che oggi si studia come nostalgia per l'Unione Sovietica, quindi c'è chi prova addirittura un rimpianto, si dice non per il regime, ben inteso, ma per quello che era stato l'esperimento sovietico e per quella che la mitologia di oggi ricorda come aggregazione, solidarietà, si dimenticano gli aspetti più traumatici, meno nobili di quei 70 anni e si cerca di riportare a galla il bene e il bello. Ecco, si parlava prima della difficoltà, lei citava i telegiornali, la senatrice Segre ha parlato di esperienze molto più tragiche. L'Unione Sovietica ha avuto anche dei momenti sereni, piacevoli, la quotidianità, è un pensiero che è già emerso anche questo pomeriggio, è esistita sempre, addirittura nei 900 terribili giorni dell'assedio di Leningrado, è stata messa in scena la settima sinfonia di Shostakovich, le persone hanno continuato a innamorarsi, sono addirittura nati dei bambini in quei tre anni terribili e l'Unione Sovietica continua ad essere anche questo, quindi per questo ho pensato che valesse la pena di indagare, di andare un po' più a fondo e di riaffrontare il problema e riproporlo a tanti anni dal suo crollo. Il tema delle manipolazioni, degli atteggiamenti mentali, che è molto particolare, che è stato, come dire, di cui si è parlato in passato, potrebbe essere anche ancora oggi un tema attuale? Sicuramente, questo è un po' l'auspicio che tra le righe io mi auguro venga a galla per chi affronta la lettura del mio lavoro, al di là di fornire notizie, documentazioni, analisi di situazioni, di stati di cose, mi farebbe molto piacere se emergesse proprio questo, quali fossero gli strumenti che il sistema della propaganda ha utilizzato per arrivare a agire gestire le emozioni e ottenere il consenso. Si parlava negli anni stradiniani di empatia, quindi non era possibile provare emozioni autentiche e personali. Il discorso era così sofisticato, organizzato così bene, che convinceva le persone che l'emozione più grande che si potesse provare era condividere quella del capo, il capo naturalmente era Stalin e conosciamo gli esiti del culto della personalità. Oggi viviamo in una situazione politica ben diversa, per nostra fortuna, è stato ricordato anche poco fa, siamo in democrazia, quindi il mio discorso non affronta la situazione politica, ma piuttosto quella delle comunicazioni, quindi una certa televisione, una certa stampa, certe abitudini che sono in valse oggi e che portano a provare delle emozioni, io le definivo quando ne parlavo con i miei studenti, da sabato sera, quindi si accende il televisore, si spreme una lacrimuccia per un'emozione che non è un sentimento, perché qualche programma televisivo riesce a far piangere. Io cito la teoria della seconda lacrima Kitsch che Milan Kundera elabora, ha elaborato nel suo straordinario libro L'insostenibile leggerezza dell'essere, la prima lacrima, dice Kundera, è sincera, la seconda è falsa perché è commossa per l'esistenza della prima, quindi è troppo facile televisivamente condividere un finto sentimento e poi si cambia canale, la lacrima si asciuga e si va letto convinti di aver provato qualcosa di importante. Studiare la gestione, le tattiche, le strategie che i regimi totalitari hanno messo in campo per ottenere questi risultati può essere un aiuto, può fornire anche qualche strumento per non cadere nelle trappole che oggi continua a tenderci. Lei ha fatto un'indagine molto acuta e anche molto moderna perché non solo si è rifatto a documenti storici ma si è rifatto anche a riviste, cinema, cartellonistica, a vita comune. Lei poi ha un altro vantaggio, si può confrontare con i suoi studenti. Ecco, tutto questo come vede viene assorbito dalle nuovissime generazioni? Viene assorbito molto bene, con molta curiosità e con grande disponibilità. Io credo che lo studio della quotidianità sia importante anche come principio, far capire agli studenti che la storia non è fatta esclusivamente di grandi fatti, di grandi personaggi ma che, e questo non l'ho certo inventato io, quindi penso a figure come Carlo Ginzburg, alla microstoria o a quella che oggi si studia come storia delle mentalità o storia delle percezioni, che permette di trovare un legame più diretto e più vicino con la propria esperienza personale. Quindi anche persone qualunque e materiali di studio che non siano soltanto i testi riprodotti nelle antologie o negli manuali di storia del cinema, della musica o altro. Questo senza voler assolutamente dare una dignità artistica a testi culturali che non la meritano, quindi la canzonetta resta una canzonetta, il disegno sulla scatola di fiammiferi non diventa né un Raffaello né un Kandinsky, però attribuire anche a testi di questa portata la dignità dello studio, cioè possono essere analizzati, fermo restando che la loro qualità non sarà minimamente cambiata, ma possono dare un grosso contributo allo studio di altri testi e di altre problematiche più serie. Gli studenti giovani hanno regito sempre con grande partecipazione, con grande entusiasmo, il rischio è forse, sta sicuramente nel far comprendere loro che questo non semplifica loro la vita, quindi sicuramente studiare la Divina Commedia è più complesso che non analizzare il testo di una canzonetta, ma se lo si fa seriamente il sostrato teorico e metodologico necessario, resta fondamentale. Giampietro Piretto, quando c'era l'URSS, vincitore della sezione divulgativa, grazie veramente, è stato un vero piacere professore, accompagnato dal vostro applauso.